Le novità che emergono dalla indagine che abbiamo fatto per essere molto sintetici evidenziano una crescita della presenza di animali da compagnia nelle famiglie italiane. Il 94% dei chi ha animali ha un cane e un gatto con prevalenza sui cani circa il 60%. Quello che possiamo dire nel rapporto con il veterinario, l'argomento principale dell'indagine è che si va più dal veterinario e c'è più coscienza sulla salute e benessere dell'animale. Il veterinario resta in riferimento di fiducia con percentuali elevatissime del 94-95%. I proprietari seguono i suoi consigli, credono nei consigli che dà sull'alimentazione, si rivolgono a lui per la nutrizione e l'alimentazione dell'animale e comunque adesso è una figura, nonostante internet, nonostante tutte le informazioni che possono girare online, è una figura di primo campo e in assoluto la più importante per le informazioni che ha bisogno il proprietario.